ok REC te ga fra ca? e siamo in questo posto bellissimo che nessun sa che nessun sa dove che siamo tra l'altro tra l'altro Luca Giurato ha detto che ha sto Sanremo che sarà Nenga e REC Nenga e REC si si incoppia è giusto? dovessimo però ritirarlo fuori si mettiamo Giurato dappertutto mettiamo Giurato l'ultima volta io era quel Sanremo stiamo ciaccolando a caso una presentazione allora se è la prima volta che siamo in questo studio che se è il nostro nuovo studio guarda che figata che abbiamo fatto tutto qua col sudore delle nostre ascelle e che ancora le sta lavorando e quindi no voglio dire se è figo si un applauso allo studio studio che faremo in questo posto qua una nuova trasmissione questa cosa è una specie di anticipazione che abbiamo deciso di fare visto che abbiamo qua con noi il nostro amico Raffaele Prestinenzi un applauso da casa Prestinenzi per due motivi questo video tra l'altro lo registriamo tutto oggi lo divideremo in due parti ma la prima parte parleremo di un spettacolo che andrà in scena il giorno 28 gennaio 28 gennaio alla sala Luttazzi con la L con la L non sbagliare perché se è pericolosissimo e sarà il spettacolo che si chiama la vera storia il titolo sarebbe 1932 la vera storia dell'homo vespa la vera tra virgolette la vera perché tanto nessuno la sa quindi cosa parla cos'è questo signor che cantava ma com'è bello andare in giro con le vespe sotto i piedi sì no penso che tutti a Trieste almeno una volta che avrà sentito la canzon dell'homo vespa ma certo che sì però forse non tutti che pensava che c'è una storia vera ecco visto che mi avevo la fortuna di avere un nonno che era nato nel 22 e che nel 32 da cui 1932 che aveva dieci anni e lui mi diceva che con lui aveva dieci anni si ricordava non tanto lui ma si ricordava che sua mamma e le sue numerose sorelle aveva molta paura per almeno un mese e mezzo di uscire da casa visto che lo riabitava in zona renaveccia terrorizzati dal pericolo dell'homo vespa e tantissimi articoli nell'archivio del piccolo su cui mi go studiare si si come tagliare fuori le foto le abbiamo messe in dei video che sarà durante il spettacolo era finì sul Corriere della Sera a stare un bar ma ti dà una notizia in che senso una notizia si voglio saperti ti te saverà sicuro il lamierin il lamierin cioè le mulies si che ha messo un lamierin allora se è vero ha questa roba infatti nello spettacolo se è proprio il personaggio messo dentro nella storia era questo signor Giacomo Thiuque lui era un bandaio barra lattoniere dipendi dal termine cioè? che batteva lamiere fatteva lamiere lattoniere che però in Triestino si chiama bandaio lattoniere penso per la latta per il discorso e lui addirittura se è l'articolo del piccolo della giornata in cui lui va in comune perché vuole brevettare il salva culatte bellissimo e lui praticamente questo salva culatte anzi il salvanati che lo chiamava lui lui aveva avuto questa idea usando come test sua moglie che era una signora che lui disì aveva una certa corporatura che praticamente faceva un calco di gesso sul dedrio della moglie ha personalizzato come il fire monitor tipo a cento anni dopo esatto gli era personalizzato poi lui che faceva delle delle slinghe delle tiracche del cuoio probabilmente gli era su cui poi gli metteva la latta sul ferro sul cul sul stampo e ti disse potevi ligare sotto il combinè il disì però gli era fatto dell'ata poteva già chiamarsi il latacu era facile era già il nome pronto era già pronto tanto se è vero che infatti questo signor Giacomo Ziouk se sta poi uno dei sospetti maggiori perché pensava che lui eh certo se avessi creato un mercato per se stesso esatto e lui se è uno dei personaggi della storia di Zemos ma se è un spettacolo teatrale ma musicale se può definire musical se può definire musical musical o commedia musicale se due robe diverse mi non ho ancora capito niente di sta roba qua se va il tutto va il tutto ormai tutto se musical tutto ah però commedia musicale però è con canzonine edite che ha scritto tutte tutte si ha scritto tutto tutto quanto lui e tra l'altro già vi dico visto che qualche dunca già inizia a scriver me non e mi chiedi anche i miei mi ha chiesto il mio papà non che sei la canzone dell'omo vespa dentro quella che conosce tutti perché la diretta finisce qui non mi interessa altro mi voglio ascoltare solo quella esatto solo quella e quella la perché a parte che ho voluto evitare problemi insomma dei incastramenti e robe e poi anche su quella canzon c'è una una storia bella che non conoscevo diciamo sicuramente è il merito di Pilate di averla rielaborata in chiave moderna in chiave rock and roll perché esisteva una versione originale dalla quale lui ha lavorato sulla quale lui ha lavorato se voi andè su youtube e scrive tommi di Lazzaro Cherubini c'è una canzoncina da hit parade degli anni 30 era fine anni 20 primi anni 30 e cantata da questo cantante neomelodico di quella volta e con questo ritmo è un po' un po' swingata ah ma la musica se quella è quella ma dai questa era la melodia lui diceva delle robe che non si arriva a capire nel giradischi insomma ma cosa è successo il giornalista che all'epoca aveva seguito il caso dell'homo vespa e che ha scritto tutti gli articoli quando l'homo vespa si sparì l'ultimo articolo che lui ha fatto che ha scritto la poesia su sta musica quindi quindi la poesia esisteva la musica diciamo più o meno con un'altra cadenza esisteva e Pilate ha comunque questa idea di ricciapare tutto e regalarne poi sta roba che se no probabilmente se avessi sicuramente perso insomma quindi quella la la semolà non volevo quella la la semolà e la cantiamo in pullman come se è giusto con tutti e via esatto esatto e quindi quante persone che sono e che cantano? una band di tre persone che sarà Eleonora Lana il pianoforte e Francesco Vattovazza la batteria che tra l'altro ringrazio perché mi avevo scritto tutto ma non sapevo scrivere le linee della batteria quindi la rossonata e poi suonata Deluigo e ho detto senti ho sonato anche la batteria? ecco così ah sulla tastiera scicchi 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 e poi come al violin sarà Lucy Passante Spaccapietra che suona una bravissima violinista quindi se hai due babbette uno metto esatto perché una si fa metta tutto questo collegamento di gran classe che hai fatto va finissimo spostate la telecamera voi intanto dice le vostre cazzate si e quindi questi sei musicisti e poi invece il cast si è composto da dei cantanti e un attore praticamente i cantanti si è Leonardo Zanier Daniele Tripaldi Elisa Colummi Anna Viola poi son me un sacco di gente e poi a recitarsi Julian Sgherla che sarà il nostro come dire narratore coro certo e con la scusa lui si è guarda un attimo se questi momenti che bisogna anche lasciarli alla cronaca rosa Anna Viola se la moglie di Prestinenzi se la moglie di Prestinenzi si una raccomandata esatto raccomandata brutta 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 ma bella brutta brutta nel senso tanto raccomandata tanto raccomandata ma bella in quanto bella esatto va bene si è giusto e voi fai voi fai a fare i vostri dove va lui lui gira c'è se vedi che sei una regia reale reale si è fatto le mani da Maxino che sta inquadrando il suo modedrio e guarda che bella capì perché bello perché ciappella anche come prima esperienza nostra nel gestirlo studio meraviglioso che gavemo bravi non so se gavè capì ma fra comì questo vedete così ecco così gavemo lo zoom disi una roba importante che zoom adesso ti dico una roba importante la disi dico zoom verso però zoom su raf mentre mi la dico si sta per dire no no vai vai un atteggiamento un atteggiamento un muso sì no volevo farvi vedere signori che da quando Prestinenzi che ha intrapreso questo ruolo autoriale non solo è un atteggiamento molto più intellettuale c'è quell'atteggiamento un pochettino dell'autore un minimo strafottente che ha quella strafottenza ma quella conoscenza che lui ga e gli altri no guardilo come se profondo è il suo sguardo da paraculo proprio che esci in questa situazione qua ah faceva anche un pochettino anni settanta in verità in verità guardandomi capì che non go più gli occhi da quando sono diventato padre probabilmente non go più gli occhi li cattua fia in mano esatto e la li gira quando che la vola quando che la vola sì comunque mi volevo così dire questa roba riguardo a questo sì spettacolo che mi vi sono comunque debitor a Max a Flaviotto e a Elisa perché è la prima volta che mi in questi anni il povero Max sa perché dovevo sorbire negli anni vari esperimenti miei di strane operine opere morali musicarelli commedie musicali mai che mai nessuno sentirà e vederà perché è stata probabilmente le prove per poi far una roba come questa però è stata la prima volta questa è Roma Vespa che in origine mi avevo pensato al nostro gruppo come ispirazione iniziale che avevo usato come calchi cioè non so come dirmi del solito pensavo voglio scrivere un musical su Dracula e quindi questo è fatto te sei ispiri a chi? a Dracula perché non sei che te conosci vampiri no? però in questo giro qua avevo pensato come fossimo sta di noi a quell'epoca e come sarei sta se Flaviotto fossi sta quel che magari inventava quella roba e mi ha servito tanto cioè che andava ha molta più più verosimilianza ai personaggi mi cosi stanno trapoler quindi il trapoler il trapoler il trapoler il trapoler il trapoler il trapoler sì quindi beh sta roba penso che lo fa anche anche a Hollywood si ispira allora mi pensi che fossi Anthony Hopkins dopo niente Jim Carrey vabbè so che anche a Hollywood si ispira a noi sì sì no anche a volte la roba più inquietante è che noi logai trovo una torque che somiglia eh sì non so se mai capitale la prima scelta sì sì beh so che Jim Belushi doveva essere dentro Ghostbusters Eddie Murphy doveva essere ah pensa sì quattro Ghostbusters doveva essere la mia non so se Bill Murray si arriva al posto di Jim Belushi ma così Eddie Murphy non so se è vero ma che in Jurassic Park doveva pensare a Kevin Costner invece che a Sam Neill che un poco ogni tanto in qualche inquadratura ti dici ieri a Yannick e Kevin Costner passavano ancora film figli dopo di finì dopo di finì e se uno vuole il biglietto di questo spettacolo va su Ticket Point e prenota il Ticket Point come ho fatto me sì sì quindi se Ticket Point e che sarà la prima ecco la prima replica sarà alla Lutazzi appunto il 28 e poi per chi non riva perché speriamo che magari sia un sold out speriamo che uno non rivi speriamo che uno non rivi che così ne abbiamo tempo di provare per la replica dopo e se a Mugia a febbraio sotto casa sotto casa sì e quindi che insomma c'è anche un bel teatro insomma un teatro verdi e niente adesso noi stiamo provando e speriamo che va tutto bene io ogni giorno faccio degli incubi dei sogni che cambio la trama cambio tutto non ti puoi più sì non so adesso te devi accettare tutto quello che ti ha scritto che sarà giusto te devi accettare la sconfitta anche perché tutti i cambiamenti se dovuti alla paura non se mai cioè i cambiamenti che ti faria adesso non sarai equilibrati a questo punto perché sei la paura che te li che te li vuoi far far te capisci quindi ti devi andare dritto hai ragione che consiglio che ti sono guarda che mi ogni tanto perché non ti gozo un modo la faccia mentre ti dicevi questa cosa adesso la go tutta questa faccia fammi di nuovo questo vedi Raffaele perché in questi casi qua se ti ti faria dei cambiamenti sei riaspinti dalla tua paura nell'affrontare la cosa e la paura la paura non sei mai una buona consigliera in questi casi perché ti faria fare delle robe come quando si fa le robe in agitazione in fretta quindi se hai delle scelte noi non fiamo mai noi abbiamo i spettacoli pronti un mese prima e sapemmo tutto quanto quindi noi ne noi piasi questo fatto di arrivare sul palco nel panico te capisci? questa calma di Flavio me la voglio ricordare eh dopo perché poi nei spettacoli nostri abbiamo questo misto di arroganza e di cago che è una roba meravigliosa tipo se questa specie di dottor Jekyll e Mr. Hyde cioè non vedo andare in scena mi stavo non so niente poi se se nate anche nel ciaccolare ah si e tipo bell'arrogantissima retroparsa si si ma sta roba la faccio in retro la faccio in retro no aspetta si perché un dei due fa la retro e l'altro che metti una mano sugli occhi questo è il nostro gesto no? questa è la cosa che se ogni tanto se hai quei momenti che so se è Elisa povera che si ma allora che abbiamo deciso che scena e noi fiamo ma cosa fai? e se una una spocchia per nascondere un terrore in fondo perché stiamo cagando si passi in retro con gli occhi sera si però sei una tale paura e arroganza che poi genera genera una sua magia insomma sarà il 12 anni che fiamo un spettacolo in teatro e in qualche modo che ne siamo usciti insomma e purtroppo non venimo mai puniti anzi ogni volta arriviamo sempre più al limite non stasci amare non stasci amare non stasci amare non stasci amare l'universo che ti ascolta comunque noi siamo felici di avervi mostrato il nostro nuovo studio per la trasmissione futura andai tutti quanti no andai tutti quanti a vedere lo spettacolo di Zummo Raffaele Prestinenzi e Anna Viola che andiamo a vedere lo spettacolo di Zummo che lui fossi Zummo Raffaele Zummo Prestinenzi quindi 1932 la vera storia dell'Omo Vespa e viva e viva e viva non so che sigla che metterò metterò domace non abbiamo ancora quella non abbiamo ancora dito come si chiamerà la trasmissione futura beh ma potremmo dirlo dai cioè disemolo in chiusura di questo spazio dai la trasmissione futura se chiamerà Kukerle benissimo mi piace mi piace ma non la sigla perché non la leggo ancora a farlo no la sigla è ancora da derivare però arriverà Kukerle noi ci vediamo a breve con la seconda parte di questo video che sembrerà scollegata in cui parleremo di un altro spettacolo si intanto Fene saverse vi piaceva guarda guarda come Zummo Flavio Furian Raffaele Prestinenzi meh a largo ciao a tutti attenti all'Omo Vespa e grazie alla regia e al regista sempre un ottimo lavoro